Volei Andrea Sartoretti e il ritorno del palleggiatore gialloblu Bruno Resende collegato dal Brasile appuntamento alle 22.30 su TRC, intanto abbiamo parlato proprio con Andrea Sartoretti del futuro del mercato in particolare delle posizioni di Grebennikov, Vettori e Rinaldi Quello che avete letto è che c'è una squadra russa che è interessata al nostro libero che è sotto contratto e quindi stiamo parlando di questa ipotesi ma Modena Volley tutta la società non ha nessuna intenzione di liberarsi di Genia Grebennikov quindi vedremo se ci potranno essere delle soluzioni ma di base c'è questo noi vogliamo essere competitivi, abbiamo costruito una squadra, stiamo finendo di costruire una squadra per il futuro, per la prossima stagione che possa essere il più competitiva possibile abbiamo deciso di rilanciare, di essere protagonisti e Genia vogliamo che sia uno dei protagonisti Vettori è stato con noi questa stagione, non abbiamo ancora rinnovato, stiamo parlando per il futuro sicuramente uno dei nostri ragazzi che è cresciuto con noi, hai detto bene, Giulio Pinali che quindi può essere anche lui un rientro e una nostra possibilità in questo ruolo e vediamo se si possono creare delle soluzioni che possano rendere più forte e più competitiva la nostra squadra Un'altra battuta, Rinaldi resta o una parescondenza? Anche qua non è stato ancora concluso nulla, credo che le valutazioni come ne abbiamo parlato francamente con lui possano essere solamente quelle che possano garantire più posizioni in campo più minuti giocati per valutare se è giusto che rimanga con noi o giusto darlo in prestito